Questa notte ero qui fuori a contemplare il meraviglioso cielo stellato qui al Volpe Rosse Camp quando ho sentito i cani da pastore lì giù abbagliare in un modo molto aggressivo perché evidentemente avevano percepito che la mandria delle vacche aveva qualche difficoltà era in pericolo perché ci dovevano essere i lupi questi sono dei segnali macroscopici che non possono che essere analizzati e approfonditi e infatti che cosa ho fatto? Sono venuto qui e ho guardato questa pallata e si vedevano delle ombre che risalivano questa collina poi giravano di qua e riscendevano e nel frattempo si sentiva ansimare perché evidentemente questo passo spedito del branco dei lupi li faceva affaticare molto riscendevano i cani di nuovo che abbagliavano le vacche erano, adesso le vedete più in alto lì su, ma erano più in basso dopodiché alla fine i cani si sono fermati lì giù nella vallata i lupi sono risaliti tutti quanti evidentemente rassegnati dal fatto che non sarebbe stato possibile avere un pasto facile ieri notte e quindi che cosa hanno fatto? Sono rimasti lì all'altezza di quelle pozzanghere lungo questa strada e io mi sono avvicinato di qua non mi hanno degnato minimamente di uno sguardo dopodiché si sono spostati qui sotto hanno attraversato la strada sono scesi verso il margine del bosco io mi sono spostato da questo lato in quel momento e li ho visti avvicinarsi verso quel margine lì del bosco dopodiché però hanno deciso di ritornare indietro e infilarsi lì sotto immergersi di nuovo nel bosco in cerca di un pasto senz'altro più facile perché in questo caso i cani da pastore hanno funzionato perfettamente come deterrente nei confronti del lupo e chi pensa il contrario sicuramente ha trovato evidentemente i cani sbagliati in questo caso i lupi hanno battuto in ritirata per cercare qualche altra cosa sicuramente un pasto di qualche animale selvatico durante la notte vediamo adesso se riusciamo a trovare qualcuna delle tracce ahimè vedete sono passate delle macchine questa mattina quindi vediamo cosa è rimasto di ciò che sono i segni del passaggio di questi meravigliosi animali eccoli qua guardate qui abbiamo qui senz'altro una compressione con si vede più di una anzi perché qui abbiamo quest'orma qui poi abbiamo quest'altra orma che viene a sotto diciamo è sotto a questa che abbiamo visto prima quindi una posteriore su un'anteriore qui c'è un'altra posteriore guardate sono molto ravvicinate qui ce n'è un'altra eccola in questo caso la direzione è quella opposta mentre queste vengono verso di me e poi continuiamo a quest'ora la luce è ottimale ah questa si vede molto bene anche se è stata parzialmente schiacciata dalla ruota di una macchina eccola qui si vede che è rimasto un dito due dita tre dita e un altro che sarebbe stato qui con il cuscinetto del medagarpo perché questa è un'orma anteriore e qui abbiamo la relativa posteriore continuando vediamo se riusciamo a individuare qualche altra orma bisognerebbe soffermarsi ovviamente più attentamente per guardare i minuscoli dettagli qui c'è un'altra compressione eccola qui e poi anche qui questa è meno visibile ma senz'altro presente come anche questa e poi continuiamo vediamo se riesco a mostrarvi avvicinandomi alle pozzanghere qualcosa di più evidente qui ce n'è un'altra eccola qui molto evidente e poi vediamo se troviamo qualche altra cosa qui lungo il margine di sinistra qui si vede guardate si vede il cuscinetto addirittura con tutte quante le rugosità della parte inferiore si vede un dito due dita tre dita quattro dita e questo qui è il cuscinetto del medagarpo anche questa è un'orma anteriore forse qualcosa di maggiormente impresso nel fango eccoli qua guardate guardate questa come si vede bene chiaramente anche qui ce n'è un'altra anzi qui c'è una sovrapposizione di orme qui sono molto molto ravvicinate a indicare che appunto l'individuo non era solo ma c'era più di un lupo queste vanno nella direzione opposta questa è un'anteriore questa qui è una posteriore che va in là a confermare il fatto che qui su siano rimasti per alcuni istanti a scrutare la vallata lì sotto e purtroppo a pensare al pasto ormai che si allontanava e doversi dirigere verso altri liti per oggi dal mondo affascinante della natura è tutto ma ricordate che quando siete qui fuori potrete vivere delle emozioni molto intense che soltanto la natura sa regalare grazie a tutti e buon tracking ciao grazie a tutti grazie a tutti